Buonasera e bentornati ad una nuova puntata di Spazio Occupato. Oggi parleremo della riforma costituzionale del Premierato, una riforma di cui si parla molto negli ultimi giorni, ancora solo una bozza, ma proveremo a fare una piccola fotografia di quanto sta accadendo e di cosa accadrebbe se questa riforma fosse approvata. Dunque cominciamo subito, vediamo la sigla e assistiamo al nostro dibattito. Grazie a tutti. Bene, dopo la sigla che ci ha introdotto nella puntata di oggi cominciamo il nostro dibattito. Parliamo del Premierato, di questa proposta che torna in auge dopo altre volte che è stata già proposta nel nostro paese e il governo Meloni propone una riforma tutta sua del Premierato. La analizzeremo insieme con due esponenti, due esperti del settore e vedremo che cosa implica e quali sono anche le opinioni su questa riforma. Ne parliamo con il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale all'Aquila, Leonardo Scimia. Buonasera Leonardo. Buonasera, grazie Tommaso per l'invito. E con il professore, giurista, docente universitario e amico di questo programma, Fabrizio Marinelli. Bene, grazie. Bene, allora cominciamo subito facendo una rapida fotografia di questa proposta di legge, questa riforma costituzionale in realtà, proposta di riforma. Abbiamo avuto una possibile riforma di Premierato, prima con la bicamerale, con le famose bozza salvi e poi nel 2006 invece l'aggiunta alla bozza salvi della sfiducia costruttiva. Questo era stato il minimo cambiamento. Ma di quale tipo di Premierato parliamo adesso con il governo Meloni? Ma intanto diciamo che questo tipo di riforme non porta bene. Ha iniziato Craxi, ha continuato con Siga, poi è venuto Berlusconi e poi Renzi. A nessuno è passata tutto sommato la riforma. Allora bisogna capire perché si vuole fare una riforma. Io credo che l'attuale forza di governo voglia rafforzare i poteri del Presidente del Consiglio. Perché si ritiene che il sistema dettato dalla Costituzione attualmente sia un sistema troppo proporzionale dove il Presidente del Consiglio non ha la possibilità di esercitare i propri poteri in modo deciso. A me se questa è l'esigenza io tutto sommato non la vedo perché non mi sembra che gli ultimi Presidenti del Consiglio abbiano avuto difficoltà parlamentari. Forse c'erano ai tempi della Prima Repubblica ma negli ultimi tempi né Renzi né anche quest'anno la Meloni ha avuto minimamente problemi a gestire il proprio potere. Io credo che una Repubblica parlamentare, cioè quella delineata dalla nostra Costituzione, sia una Repubblica equilibrata, cioè dove il potere legislativo e il potere esecutivo abbiano un giusto rapporto. Oggi non mi sembra che il potere esecutivo sia succube di quello legislativo, anzi se vogliamo mi sembra il contrario, cioè il Parlamento conta molto poco, vota quello che gli dice il Governo e tutto sommato il sistema funziona. Non vedo la necessità di rafforzare i poteri del Primo Ministro. Ecco, dopo questa rapidissima introduzione, vediamo cosa ne pensa uno degli esponenti principali del partito che propone questa riforma nel nostro territorio. Allora, si parla di questa riforma come qualcosa di necessario in realtà. La politica è cambiata molto dall'inizio della Costituzione, da quando è stata scritta la Costituzione. È vero che si parla di molti più personalismi, i partiti sono diventati spesso partiti personali, partiti di un volto e dunque si potrebbe pensare che la motivazione di una riforma del genere è proprio rispondere a questa necessità, al cambiamento della società e della politica. Quali sono dunque in realtà il vero scopo di questa riforma? Allora, partiamo dal fatto che proprio il sistema politico dal 1994 in poi è cambiato in maniera importante. L'avvento appunto del Presidente Berlusconi ha fatto sì che si è passati da un sistema politico in cui c'erano i partiti che erano praticamente gli stessi da tantissimo tempo. Si è arrivati ai partiti come Forza Italia che rappresentavano in tutto e per tutto quello che era la figura di Berlusconi. Successivamente c'è stata una modifica nel tempo per cui sono andati altri partiti ma tutti quanti, bene o male, erano rappresentati da dei frontman ben definiti. Se prendiamo anche la stessa Fratelli Italia, per quanto sia un partito organizzato sul territorio e abbia dei punti di riferimento certi, basti vedere l'Aquila, comunque ha un punto di riferimento nazionale che è la Meloni che poi è la Presidente del colei che ha ideato il partito. Oggi non mi baserei tanto su questo quanto più sull'esigenza che è reale, cioè quella di avere dei governi che siano stabili. Nell'ultimo periodo la nazione ha avuto, negli ultimi vent'anni la nazione ha avuto troppi governi che per carità potrebbe anche essere identificativo di un sistema politico e quindi potrebbe anche andare bene, come è stato di fatto anche in tutti quanti gli anni di Repubblica Italiana. Però dall'altro lato ha fatto sì che noi siamo rimasti indietro rispetto ad altre potenze europee per cui rimaneva una certa stabilità, come esempio la Germania, la Francia ed altre nazioni che non hanno visto un susseguirsi di governi anche di colore diverso, ma ancora di più il fatto che noi per tantissimi anni abbiamo avuto governi tecnici, cioè con persone che rappresentavano lo Stato, la nazione, sebbene questi non si fossero presentati davanti al Paese e al di là della capacità politica che questi potevano avere, sicuramente non avevano quell'attaccamento con il popolo che può avere una figura votata, perché è chiaro che se una figura viene votata e quindi ha un riscontro diretto e un confronto diretto con la popolazione al tempo stesso è vincolata a un programma di mandato e comunque a ripresentarsi davanti al suo elettorato. Sì, però di contro si scontrano due modi di pensiero, due valori fondamentali, la centralità del Parlamento e la sovranità che appartiene al popolo, perché è vero che gli oppositori di questo tipo di riforma proprio denunciano un eccessivo depotenziamento del Parlamento e, come diceva anche il professore, un aumento di poteri ad un'unica persona, che poi ha il potere di revocare i ministri, di giocare un po' in terre. Certo, però di avere più poteri, diciamo, del garante poi della Costituzione e dello Stato che rischia poi di essere messo in discussione, ovvero il Presidente della Repubblica. Allora, ho una certa difficoltà di esprimermi rispetto a una legge che penso sia uscita qualche ora fa e sinceramente non ho avuto modo di leggerla nel dettaglio. Mi sembra di aver capito che è stato modificato solamente un articolo che fa venire meno quello che è la possibilità da parte del Presidente della Repubblica di nominare lui stesso il Presidente del Consiglio. Per tutto il resto i poteri di quest'ultimo sono gli stessi. Ma al di là di quello che è l'effettivo valore e potere che ha il Parlamento, bisognerebbe andare a vedere il numero di decreti legge che vengono fatti durante ogni governo dagli ultimi vent'anni e fa capire quanti decreti legge sono stati fatti e quindi quanto di fatto il governo nel tempo e sta nei fatti ha preso una certa importanza. Quindi a questo punto è quanto potere vogliamo dare al governo e quanto realmente il governo ha la necessità di avere quel potere anche per rappresentare gli italiani in Italia e all'estero. Sono due lecite visioni differenti di quello che vogliamo del nostro Stato, quella che propone Fratelli d'Italia che poi è la stessa che viene proposta da anni da quella parte di centrodestra che rappresentiamo, è appunto una visione del Parlamento e del governo che sono fatti in questo modo, cioè con un governo forte ma anche con una rappresentanza parlamentare importante. Quindi garantire al governo la possibilità di avere dei numeri e quindi bisognerà vedere come si vorrà calare la legge elettorale, ma soprattutto la possibilità noi cittadini di avere un Presidente del Consiglio che andremo a votare, quindi la rappresentanza diretta che tante volte richiamiamo e che poche volte c'è stata. Basti pensare che solamente oggi abbiamo un Presidente del Consiglio realmente eletto dagli italiani da non si sa quanto tempo, forse l'ultimo è stato appunto Berlusconi quando noi eravamo ancora alle superiori. C'è un però a questa narrazione perché è vero che i poteri del Capo dello Stato non vengono limati del tutto, ma comunque l'investitura popolare ad un Primo Ministro e dunque non più la nomina da parte del Presidente della Repubblica ovviamente racconta una consegna di potere al Primo Ministro che in realtà va a limare l'autorevolezza del Presidente della Repubblica. Sì, non c'è dubbio, ma io tornerei al problema del Parlamento. Noi vogliamo che il Parlamento sia centrale nella costruzione di una Repubblica o no? nel senso che già con la riduzione dei parlamentari si è limato di molto il potere del Parlamento. A me piace un Parlamento dove si discute, un Parlamento pluralista, dove tutte le idee che fanno parte della cultura in generale, dalla destra alla sinistra dell'Italia, possano essere rappresentate e possano esprimersi. Se il Parlamento lo delegittimiamo, lo diminuiamo nel numero delle persone, non è poco significativo. Un alto numero di parlamentari rappresenta il territorio, cioè la provincia dell'Aquila può essere rappresentata da tre persone o da sei persone. È molto diverso, per cui io tutto sommato preferisco che siano tante perché possono esprimere al meglio idee differenti. Io ci credo in questa Repubblica pluralista che poi è quella che delinea la nostra Costituzione. più idee vengono rappresentate e più idee si confrontano e meglio va avanti il dibattito. Per esempio, intanto il Presidente della Repubblica viene limitato notevolmente con questa legge e credo che uno degli scopi, esplicito o non esplicito, sia proprio quello di limitarlo. Ma prendiamo un aspetto che potrebbe essere poco importante dal punto di vista numerico. I senatori a vita che si vogliono abolire. Ora, i senatori a vita come nascono? Nascono dalla necessità che gli esponenti della cultura, cultura nel senso più ampio, l'arte, la musica, la storia, l'architettura, il diritto, possano avere una piccolissima rappresentanza all'interno del Parlamento. Toglierli mi sembra che non cambia la sostanza dei problemi e invece preclude a un certo numero di persone di dare il loro contributo. Poi è vero, alcune l'hanno dato, altri non l'hanno dato. Questo dipende dalla scelta che ha fatto il Presidente della Repubblica, che non, devo dire, non sempre è stata una scelta oculata. In molti casi sì, in alcuni meno. Però a mio avviso dà l'idea che la nazione non è rappresentata solo dalle forze politiche, ma è rappresentata anche dalla cultura italiana, che io continuo a dire è fondamentale in Europa e nel mondo. Ecco, proprio su quello che dicevi vorrei fare poi una domanda a Leonardo, però prima faccio un po' l'avvocato del diavolo anche con il Professore. Ad oggi però il Parlamento non è quello che descrive, non è quel centro di dibattito e di dialogo. Dunque c'è già un filone che è stato intrapreso. Sì, la colpa è della legge elettorale, che è una legge elettorale che fa nominare i deputati e i senatori dai partiti, perché la legge è stata fatta a quello scopo, se vogliamo lo vediamo in Abruzzo, mi pare abbastanza evidente, ma io non dico che i partiti non debbano eleggere i propri rappresentanti. Con questo sistema elettorale una ristretta oligarchia dei partiti, di destra e di sinistra, elegge se stessa. E questo ovviamente non facilita il dibattito. A me farebbe piacere che invece i deputati e i senatori venissero presi dalla società civile, cioè venissero presi tra le persone che tutte le mattine si sbattono per andare a lavorare. Però questa è un'utopia alla quale mi rendo conto, non ho molte speranze in questo senso. Anche perché ci sono poi due scuole di pensiero tra chi invece promuove la politica di professione che tanto è stata avversata in questi anni, tra la casta e anche il periodo storico a cui tu facevi riferimento prima, dal 92, 93, 94. Ma questa è un'altra storia. Ma veniamo appunto a quello che citava il professore. Questo Parlamento, ad esempio sui senatori a vita, senatori a vita che sono stati avversati non solo da Fratelli d'Italia, ma si prosegue appunto su un filone che in realtà parte dal Movimento 5 Stelle, promotore anche del taglio dei parlamentari. E dunque si inserisce in questa prospettiva Fratelli d'Italia in un'ottica di questo tipo, dunque quasi in una prospettiva populista, diciamo. Oddio, populista non credo. Per esagerare. Per esagerare parecchio. Diciamo c'è la volontà di andarli a togliere, intanto mano a mano verranno tolti, non verranno tolti tutti insieme, rimarranno comunque i presidenti della Repubblica uscenti, quindi avranno modo di avere ancora alcuni senatori a vita. Ma è evidente che oggi, con il taglio dei numeri parlamentari, avere dei senatori a vita comunque diventa determinante. E troppo spesso abbiamo visto delle maggioranze che si leggevano grazie a dei senatori a vita che comunque non erano rappresentati dal voto. Quindi era un po' complicato poter immaginare un governo che si reggesse su numeri di persone nominate da un presidente della Repubblica. Quindi questa è la riflessione. Non è che c'è una guerra contro i senatori a vita, tutt'altro. Però c'è la piena consapevolezza che forse è il caso di restituire più rappresentanza. E anzi, faccio via anche la proposta del professore, sarebbe il caso di aumentare il numero dei parlamentari e perché no, forse anche rintrodurre le preferenze sarebbe interessante, perché poi lì si crea veramente un confronto ampio e si vanno a rompere quelle oligarchie. È troppo tempo che sono state torte. A me piacerebbe che ci fossero. Un po' come alle regionali e perché no, anche come alle europee, visto che si può fare per le europee e non si capisce perché non si può fare per... Ben si parlava del sindaco d'Italia in riferimento anche al premierato. Ma un leitmotiv però che resta in questa narrazione e in queste varie proposte che si può tentare di nascondere ma è presente è una sorta di volontà di riunire il popolo il popolo alle istituzioni con un voto diretto ma andando a scardinare quel sistema di pesi e contrappesi su cui si regge la Repubblica. Quasi una volontà appunto di potenziare attraverso la volontà popolare ma andando a semplificare quel complesso sistema su cui si regge in realtà il nostro Stato perché da sempre è così in una democrazia parlamentare che quindi non è una democrazia diretta e che si regge sulle istituzioni dunque sulla garanzia di un Presidente della Repubblica che nomina il Presidente del Consiglio e che il Presidente del Consiglio chiede poi la fiducia al Parlamento. Tutto questo viene però meno. Non direi che viene meno diciamo che c'è un'evoluzione rispetto a quello che è un tipo di Costituzione che fino ad oggi abbiamo conosciuto siamo convinti del fatto che oggi gli italiani vogliano altro lo proponiamo da tempo e lo rimettiamo di fatto agli italiani perché probabilmente andrà con un referendum non lo renderemo un referendum che è alla vita o alla morte del nostro partito siamo convinti sia una scelta che appartiene assolutamente. Renzi l'ha insegnato Renzi l'ha insegnato in maniera piuttosto chiara no ma al di là di ogni cosa penso sia anche un elemento di crescita di uno Stato quello di potersi misurare rispetto a quello che sono le legittime aspettative che ha la nazione noi pensiamo di interpretarle e pensiamo che il voto dello scorso anno lo abbia rappresentato in maniera chiara però il fatto che si vada al referendum e si abbia la possibilità quindi di confrontarsi con tutti quanti gli italiani che illecitamente andranno a decidere se è il caso di avere un governo forte che ci possa rappresentare che ci sia la stabilità la stessa stabilità che ci permetterà di avere anche dei mercati probabilmente più favorevoli e non voglio entrare adesso in una questione più grande di me oppure se continuare su questa tipologia di Costituzione che tanto ci ha dato per carità non stiamo qui a pensare ci siano i terroristi oppure che quella che stiamo proponendo noi sia un'eversione del sistema attuale stiamo facendo delle modifiche delle modifiche che siamo convinti potranno dare tanto e forse in maniera un po' ottimistica pensiamo sia quello che realmente vogliono gli italiani e che da tanto tempo provano a dirci poi per varie ragioni forse anche per qualche errore politico commesso nel tempo non si è arrivati al dunque noi veramente con educazione ci proponiamo a tutti quanti nella volontà di dare qualcosa in più e speriamo veramente venga raccolto perché almeno per come penso io veramente potrà dare dei risultati positivi nel medio e lungo periodo ecco c'è stato un aggiustamento dal presidenzialismo la proposta iniziale era quella di un presidenzialismo di Veretto poi al premierato ma queste tipologie riforme la riforma della Costituzione soprattutto con l'idea che la prima parte della Costituzione è intoccabile la più bella del mondo mentre la seconda parte vada riformata si avanzano da moltissimi anni come diceva lei non mi ha mai portato bene ma è necessario ad oggi lei da professionista da esperto è necessario oggi riformare la Costituzione proprio un parere personale io credo che la Costituzione si possa anche modificare nella seconda parte però ci vuole una visione complessiva che mi pare che questa legge non abbia cioè questa legge affronta una piccola parte dei problemi andrebbe probabilmente riformata in senso diverso se si vuole cambiare secondo me va benissimo così com'è se si vuole cambiare però cambiarne soltanto un pezzo rischia di creare più problemi di quelli che risolve a mio avviso il problema vero è che oggi gli italiani non vanno a votare cioè quando parliamo degli italiani che fanno delle scelte parliamo del 20-30% degli italiani che fa queste scelte rappresentano veramente tutti gli italiani ora mi si dirà è chiaro che chi non va a votare delega agli altri le proprie scelte però lo sforzo che andrebbe fatto è quello di far votare più italiani possibile invece il sistema il sistema soprattutto della seconda repubblica è un sistema che non fa votare gli italiani cioè crea delle condizioni per cui l'italiano una gran parte degli italiani preferisce non andare a votare e questo secondo me incide molto sulla democrazia italiana noi ci riempiamo la bocca di democrazia di istituzioni ma poi se andiamo a vedere sono pochi quelli che contribuiscono a questa povera repubblica italiana anzi tante volte l'astenzione viene utilizzata anche come strumento da parte dei partiti in strategie un po' lugubri ma proprio sull'astenzione prima di tutto sull'astenzione anche questa riforma in realtà per chi la sostiene può combattere l'astenzione perché magari il volto di una persona la fiducia in una persona per quanto pericolosa la fiducia in una persona sola però almeno per alcuni pericolosa però diciamo che stimola la partecipazione però mi piacerebbe concludere con una domanda personale tu sei un giovane consigliere comunale che ha cominciato presto la carriera politica e nel momento dell'odio verso la politica o meglio forse già siamo passati non più dall'odio dall'odio proprio al disinteresse e all'indifferenza almeno nelle giovani generazioni come anche purtroppo nelle generazioni più adulte oggi che diresti e come ti poni da esponente di un partito nei confronti dei tuoi coetanei ma non solo proprio in relazione all'astenzione allora intanto penso che il nostro percorso politico sia iniziato dal periodo dell'odio e poi è diventato dal periodo dell'indifferenza e avendo misurato entrambi ti dico che la cosa peggiore è l'indifferenza questo qua fare un piccolo cappello a quello che diciamo come si combatte l'indifferenza e come si combatte soprattutto l'astenzionismo si combatte in primis dando l'esempio cercando di dare l'esempio in ciò che si fa quotidianamente quindi dare riscontro a ciò che si dice portandolo avanti negli anni in cui c'hai la possibilità di farlo cercando di non dire cose tanto per recuperare qualche like sopra i social ma soprattutto cercando di guardare sempre al bene comune ogni qualvolta si fa qualcosa che rappresenti la città o comunque qualche scelta di importante da capogruppo quello dico sempre ai miei consiglieri comunali è sempre ok adesso ragioniamo da preturo a San Gregorio e tagliamo la città in due e iniziamo a ragionare su tutto quello che rappresenta la città e pensiamo se fra qualche anno le persone che vivranno la città penseranno che quello che abbiamo fatto è una cosa giusta o sbagliata pensiamo ai nostri figli posto che figli di donne però prima o poi potrebbe capitare quindi di fatto si deve cercare di ragionare in maniera più ampia possibile con tutte le difficoltà del caso con le capacità che si hanno si cerca di ragionare in questo modo e si cerca di raccontare la politica con la passione con cui la viviamo almeno per quanto mi riguarda chi mi conosce lo sa che nonostante io abbia un lavoro abbiamo una professione che comunque mi impegna tanto personalmente poi quando ci stanno i momenti della politica come richiamo i momenti della politica della mia giornata in generale che ogni tanto si presentano cambio faccia e là entra proprio la passione e noi dobbiamo raccontare questo non è sempre facile rappresentare quello che si prova in determinati momenti quando si prendono certe scelte quando ci stanno certe difficoltà quello che ti spinge a sopportare in alcuni casi determinate cose è quello che va detto sarebbe interessante poter raccontarla a tante persone cos'è che ci spinge anche perché non abbiamo stipendio non abbiamo benefit non abbiamo nulla che potrebbe in qualche modo giustificare il motivo per cui Leonardo o tutti gli altri consiglieri o Tommaso perché magari non dentro al Consiglio Comunale ma in questa trasmissione lo sta facendo vuole far politica forse questo dovremmo recuperare e questo va spiegato in questo senso posso dire una cosa io ho avuto tanti maestri uno particolarmente è stato il Cardinale Martini il Cardinale di Milano che veniva ad Aquila negli anni Ottanta perché c'era un centro teologico biblico e lui era un grande biblista e veniva a fare delle lezioni e una sera mi ritrovai del tutto per caso vicino a lui e parlando gli chiesi qual è il peccato più grave e lui mi rispose il peccato più grave è perdere la speranza ecco questo si ricollega a quello che dice Leonardo speriamo che le nuove generazioni a prescindere da come la pensano comunque ritengano che la politica sia una cosa importante nella vita della società e nella vita di ciascuno di noi con questo bellissimo messaggio concludiamo la nostra puntata con un pizzico di speranza anche per il nostro paese per la nostra repubblica e soprattutto per la nostra politica affinché veramente chi ci rappresenta possa fare il bene di questo paese anche di questo mondo perché in questi tempi tra conflitti guerre ingiustizie e migrazioni davvero forse di un po' di speranza ne abbiamo bisogno allora permettimi fammi dire un'ultima cosa siamo la città di Celestino la città della perdonanza la città della pace oggi abbiamo due guerre e in questa città nessuno fa niente per cercare quanto meno di comprendere non siamo noi a risolvere queste cose però se ne potrebbe dibattere dalla città del perdono la capitale del perdono insomma qualche pacifista c'è ancora non molto visto bene però dalla maggior parte purtroppo comunque concludiamo la nostra puntata io spero di aver fatto un buon servizio nel aver un po' fotografato questa bozza di proposta di riforma vedremo le sue evoluzioni nel corso del tempo intanto ringraziamo Leonardo Scimia per essere venuto grazie a voi grazie nella nostra trasmissione il professor Fabrizio Marinelli grazie a voi vi lascio alla nostra rubria delle parole occupate e ci vediamo più tardi concludiamo come sempre la nostra puntata con le nostre parole occupate abbiamo parlato tanto di costituzione e dunque non possiamo concludere la nostra puntata senza citare il primo articolo della nostra costituzione che in realtà già dà una mappa già dà una prospettiva al nostro comportamento e al nostro rispetto nei confronti dello Stato lo leggiamo insieme l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione dunque il popolo è sovrano ma è la costituzione a dettarci regole e leggi che indicano il nostro comportamento il nostro rispetto e anche il nostro approccio allo Stato dunque io vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata di Spazio Occupato di Spazio Occupato Spazio Occupato Spazio Occupato Spazio Occupato